che c'è Tina ma non c'ha più niente è vero oddio non ho più un tatuaggio lo preferivi prima? no io così figurati mi sento mastrolindo oggi no ma questo è bello così guarda veramente più bello sta benissimo sta benissimo però lo preferisco naturale insomma cioè con i suoi tatuaggi è più particolare è proprio Manuel no? Sonia come lo preferisci? io non me ne ero neanche accorta perché non ci faccio caso ah ah per me non ti ho fatto caso cioè non no lo preferisco con comunque con? no fa strano vederlo così tutto vestito no? per benino senza tatuaggi però anche a me piace di più come è lui il suo stile lo contraddistingue sta bene no no a me piace di più così nuovo look più raffinato meno tamarrone meno tamarrone io mi sento in giù ti dà fastidio non averli? erano 7-8 anni che senza maschere così un po' fatica però dai due rette non reggo che lui ha un bel Grazie a tutti